Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati. Bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Il TG Code oggi inizia così con un primo e nuovo teaser di una panoramica di un punto di interesse della nuova mappa di Caldera, nuovo punto di interesse Lagoon. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul mio canale informativo, vi ricordo come sempre lasciare un bel mi piace, tutti i miei social in descrizione, oggi alle 13.30 in live. Ieri eravamo oltre 300, grazie veramente di cuore per tutti questi numeri incredibili, non so come ringraziarvi. Tutti i miei social appunto vi dicevo in descrizione, i vari codici sconto, aimcontroller se vi volete regalare un controller personalizzato, inebba.com se cercate giochi e PSN card scontate. Inoltre troverete nel commento di rilevo il mio sito internet amantecode.it per approfondimenti e quant'altro. Ieri ho portato notizie veramente molto importanti anche su Butterfield ed una classifica interessante delle applicazioni dei giochi più scaricati del 2021 su Apple Store. E poi ovviamente il mio canale di offerte su Telegram. Ma partiamo perché vi devo dare un sacco di belle notizioni. O meglio, io partirei, clicco il video con una questione importante. Amante il FOV ci sarà? Amante ma il FOV c'è? Il FOV c'è su PS5, il FOV c'è su PS4, il FOV c'è su Caldera? Perché non arriva il FOV? Sapete ragazzi che questa è una delle domande che mi state facendo di più. Anche ieri in live, me l'avete fatta in tantissimi. Voglio fare un attimo il punto della situazione. Allora, più di qualche volta ragazzi vi ho riportato questa notizia che era stata detta indirettamente o quasi direttamente dalla stessa Activision bar Infity World che non c'era stata appunto la possibilità a quanto pare causa appunto l'engine di Modern Warfare di mettere il FOV su Warzone. Al momento ragazzi non ci sono appunto ulteriori informazioni sulla presenza innanzitutto di una versione next gen di Warzone anche perché vi ho svelato in anteprima che la patch 1.47 è dedicata a Modern Warfare quindi bisognerà aggiornare Modern Warfare per giocare a Warzone quindi non sembrerebbe appunto essere una versione next gen. Inoltre non ci sono ancora informazioni in merito ad un aggiornamento del FOV con il passaggio dell'engine quindi come a dire se l'engine migliorato di Modern Warfare che appunto è stata utilizzata all'interno di Vanguard permette appunto questa importante implementazione che precedentemente non era stata possibile inserire né nel multiplayer di Modern Warfare né appunto nel precedente Warzone Verdansk. Ma vi posso dare due importanti indizi o meglio due importanti informazioni che ci permettono forse di sperare qualcosa. Ted Timmins il director creative di Raven e quindi il direttore creativo di Raven Software ha confermato di essere pienamente a conoscenza delle richieste dello slider FOV su console ma non ha però confermato o smentito la notizia. Vi faccio vedere questi due screen che arrivano direttamente dal suo profilo Twitter che a mio avviso sono veramente interessanti. Spero soltanto che le patch note lo chiariscano, siete ascoltati e noi vi stiamo ascoltando. Come dire, non vi posso dire se ci sarà il FOV oppure no però lo scoprirete nelle patch note della mappa di Caldera. Cosa molto curiosa, questo alle 4.38 del mattino del primo di dicembre. Qualche ora più tardi alle 8.46 dopo questa dichiarazione ovviamente è stato tartassato, bersagliato giustamente a mio avviso dalla community perché non è che ci vuole tanto a dire ci sarà o non ci sarà perché non è ragazzi veramente un qualcosa che devi nascondere in maniera incredibile cioè potevi nascondere bene altre cose ma il FOV che te lo chiedono da due anni almeno il rispetto della community dovresti dirlo caro Ted Timmins dato che hai voluto fare questa dichiarazione al Pepe. Ragazzi, seriamente sono quasi le 2 del mattino e sono sicuro al 90% di avere già un'email nella mia casella di posta sulla mia attività di Twitter questa sera. Mi piacerebbe continuare questo viaggio in Warzone con te nel 2022, per favore. Rispetto all'informazione precedente è ancora più importante perché come dire ragazzi non vi posso dire se ci sarà il FOV oppure no perché se no rischio il posto quindi è veramente molto strana la cosa perché se dovesse smentire non avrebbe senso perché che motivo avrebbe di dire non c'è e poi perdere il posto invece se veramente c'è e lo dice prima è qualcosa che veramente potrebbe rischiare un richiamo da Activision. Quindi queste due informazioni da parte di Ted Timmins a mio avviso fanno ben sperare sulla questione FOV mentre non fa ben sperare la questione della versione next gen con il FOV invece è l'aggiornamento che uscirà per Call of Duty Modern Warfare che servirà nuovamente per giocare Warzone almeno con questa patch. Staremo a vedere se ci sarà qualche novità eclatante oppure una versione stand alone nelle prossime ore. Comunque rimanete aggiornati perché vi riporterò tutto quanto in anteprima vi spiegherò se ci saranno novità oppure no. Activision invece ha specificato che durante la season 1 quindi la stagione 1 che vi ricordo inizierà l'8 di dicembre saranno introdotte Vanguard Malloppo, Vanguard Ritorno, va detto Ted Timmins è già svilato che nella prima settimana Ritorno ci sarà e altre sorprese festive che saranno aggiunte al titolo e alla mappa di Caldera quindi potremo ben sperare finalmente per un evento natalizio fatto bene. Ted Timmins quindi ha confermato che Vanguard Ritorno sarà disponibile almeno nella prima settimana appunto di lancio della mappa. Vi faccio vedere questa curiosità molto interessante perché Shipment sarà presente nella mappa di Caldera presentando una nuova variante a tema pacifico. Non sarà simile alla versione WW2 di Vanguard ma si avvicinerà di più al design visto ad esempio su Modern Warfare 2019. Questo è il primo screen in anteprima. Ma facciamo un attimo un rapido recap di tutto quello che arriverà e delle novità più importanti che arriveranno su Warzone Pacific. Ieri invece ho fatto un video ragazzi dove potrete sentire tutto quanto 15 minuti ragazzi di un video dove veramente ci ho impiegato più di 3 ore per montarlo con tutte le informazioni quindi poi recuperateli in alta a destra se volete ancora maggiori approfondimenti sui punti di interesse, sul gameplay e quant'altro. Allora innanzitutto conserveremo l'equipaggiamento utilizzato nel Gulag nell'uno contro uno e lo potremo riutilizzare quando rientreremo in partita. Sarà rimosso il potere d'arresto. Sarà nerfato il silenzio di tomba a mio avviso sicuramente la durata e quindi la questione del tempo di utilizzo. Sarà nerfata la stordente quindi avrà meno potenza e anche il sensore del battito cardiavo quindi sarà nerfata la portata. Ci sarà il rilascio del loadout personalizzato soltanto nella stazione di acquisto non appena ci sarà la chiusura del primo cerchio quindi non si potrà comprare il loadout personalizzato prima della prima safe. Ci sarà l'aggiornamento della diminuzione della maschera antigase quindi non romperà più i cosiddetti ragazzi sia quando ricarichiamo sia quando dobbiamo sparare sia quando prendiamo la ziplane e via dicendo. E saranno introdotti nuovi contratti tra cui il Big Game Bounty che prende di mira il giocatore con il numero di uccisioni più alto. Ieri sera invece sono state inserite le nuove playlist vi riporto tutte quelle nuove Verdansk nella batteria troveremo singolo coppie terzetti e quartetti ha introdotto operazione flashback quartetti l'operazione denaro sporco terzetti prove di ferro 84 torna in versione coppie e Rebird Island e ritorno in versione quartetti vi ricordo che il 6 di dicembre all'ore 19 inizierà il terzo ed ultimo evento le ultime ore di Verdansk di cui vi ho parlato nei giorni precedenti su youtube recuperati i video informativi poi comunque nei prossimi giorni tornerò con un video dedicato sull'evento le ultime ore di Verdansk e con ancora maggiori dettagli questo era tutto quello che volevo dire il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty lasciate un bel mi piace iscrivetevi mi raccomando se siete nuovi vi aspetto alle 13.30 in live il mio sito internet e il canale telegramma di offerte nel commento in rilievo e noi ci vediamo domani ore 7 qui su youtube con un nuovo TG Code 12.20.20